Io ho cominciato nel pedale mancianese che è un'associazione sportiva qui di Manciano e ho cominciato all'età di 11 anni, poi dopo è stata una scalation di categorie arrivando al direttantismo tra cui ho vinto 13 gare e poi sono passato al mondo professionistico dove ho gareggiato per 17 anni, che credo che siano tanti, perché nel mondo professionistico per rimanere per 17 anni è un tempo molto lungo, attualmente i giovani non è più possibile fare una carriera così lunga, ho vinto una trentina di corsi da professionista, ho fatto un terzo a un giro d'Italia, terzo, quarto, alcuni piazzamenti vincendo delle tappe di montagna. Diciamo che ho avuto la fortuna attraverso la bici di girare il mondo, però devo ammettere che la Maremma si presta soprattutto per la bici, visto che all'interno non sono strade trafficate e questi su e giù mangia e bevi, come si dice ciclisticamente, che sono molto belli. L'evento importante facciamo quest'anno, ritorniamo con un evento molto grande che sicuramente è importante per la Maremma, si chiama Strade di Maremma, è un progetto che praticamente ci siamo unite le tre associazioni a Manciano, dove cominciamo con l'11 giugno l'evento per i bimbi senza barriere. Il 12 di giugno facciamo la mia Gran Fondo, che è già stato un successo nelle altri anni e quest'anno ancora di più, visto che siamo appoggiati anche dal ciclo sportivo Rai, dal vice direttore della Rai Gianfranco Comanducci, poi il sabato successivo facciamo la crono scalata in memoria a Marco Pantani, lui è stato per molto tempo qua in Maremma, ha una casa a Saturnia tuttora, dunque facciamo questa crono scalata in memoria a lui e poi finiamo con la Gran Fondo dei Briganti, che praticamente è il 19 di giugno. Sotto l'aspetto ciclistico sicuramente il fatto che proprio non c'è traffico, cioè riusciamo veramente a percorrere centinaia di chilometri all'interno trovando tre o quattro macchine. Ma qui siamo dentro il mio showroom, dove è da quattro anni che ho iniziato appena smesso la carriera, ho cominciato questa attività delle bici, dunque è una cosa non molto grande, però sono contento perché comunque sulle bici c'è il mio nome e qui cerco di trasmettere tutta l'esperienza vissuta in questo mondo.